Sì qua, tra il tuo e il mio, dovremmo trovare la strada Luke, Giovanni Skywalk, dìvi te dove dovremmo andare Ci diamo indicazioni, guarda come vuoi Dici, dove siamo su questa cartina? Se ci arriviamo che la panda non sale Dici, che la forza sia con sé Che c'è con la panda, che non si lascia Una cartina, un po' rotta, e io farò Scusi, dove siamo su questa cartina? Un po' rotta, ma si dovrebbe capire E vediamo la reazione Scusate, sapete mica per il re della Suta Moncinizio Che non lo troviamo, da nessuna parte Della Suta Moncinizio Di qualche città No, di Campogresti, di qua Invece da questa, verso di qua c'è Bussoleno Ok, ci vediamo lì Grazie mille Salve Blocca Oggi Si farà una super caccia E così sarà nel... Scusi, se mica dove andrà nel campo a Greste per due Perché su questa cartina è rotta E forse abbiamo il terapia tapioco perso Però comunque le mutande sono fresche Ciao Ma Ryan, cosa farai? Ti toglierai le braghe o no? Sì, via Walter Fontan Ore 10 e 22 Senza pantaloni Senza pantaloni Fantastico Più super cazzo l'annessa Senza pantaloni Per quale motivo? Per i tuoi? Un ottimo giorno da minorenne Bella... Marco è in mutande Commento? No Dai Ed ecco che Marco partirà con la prima cazzata Dai Golla Beh, sbriga Fai la tua vita da fuori Fai la tua vita da fuori Fai la tua vita da fuori Che io non vedo Non so Ora non mi metti fuori Morri o col saluto? Ma direi che vengo le giù Eh sono fatto Ebbè ma se non mi fai la musica Ah, sono fucchi, sono fucchi. E' il mio amore che c'è già che so. Parte che so la prima cosa la tira, ma non è mai visto il gioco da più. Lo arresto, no? Oh Dio Dio! Dai, riprenda da un'altra. A presto qualcuno! Stiamo facendo davanti a casa di Richetto! Saluta, saluta la camera! Scusi, dove siamo tutta questa cartina? E' una ripresa giusta, sai? E' giusto, saluta la macchina! Guardate! Facciamolo prendere un paio. Facciamolo prendere un paio. Vai, il giro però si va al super. No, la posso. Dai, tu vai! Ciao! 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 Faccio, ciao! — Guardate, guardate, guardate! — Guardate, guardate qua! Ho chiuso, guardate! Haено, è beato! Verr bury, ripe malziones! E' la destra! E' per esempio! attendiamo marco com'è cittadino ce la fa ce la fa in mutante beh basta ok finita lì complimenti ce la fa qualcosa da dire dai grazie grazie